Aaaaaaaaaaaaaaah No, non è un bellicadone. Le hai viste? Si possono vedere? Siamo al porticciolo rosso. Sì, ti piace questo porticciolo rosso Fabio? Tranquillo. Vero? Tu come ti senti? Tranquillo. Sempre tranquillo sei. Che possiamo fare? A posto mi compare Fabio. Ammirate, siamo al porto Rossi di Catania, lui è la superstar Fabio Liotta. Giusto Fabio? Certo. Che te ne pare? Bene, bene, bene. È bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voi sapete che non vi lasciamo senza preghiera. Grazie a tutti. Possiamo divertire pure, ma preghiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra c'è oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi e liberaci dal male, Amen Ave o Maria, piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave o Maria, piena di grazie il Signore è con te prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Ave o Maria, piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria io ho un'ora come va? bene come fare le foto? si qua dove siamo? a San Danone torniamo a casa guarda che bella questa luce per camminare ah ha fatto il video si è messo sul video oh che bella speri oh no sana santo santo oh santo oh Grazie a tutti. 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 Good evening, ladies and gentlemen.